Non solo Piazza Unità, ma ospichiamo che l'amministrazione comunale tenga conto, collocando gli addobbi natalizi anche delle altre zone della città. E questo è l'appello che tanti telespettatori hanno rivolto stamanna ad Alberto Polacco di Forza Italia, ospite a Sveglia Trieste. Il consigliere comunale ha subito replicato positivamente a queste sollecitazioni, soffermandosi in particolare sull'attenzione rivolta alla zona di Largo Barriera. L'area di barriera sarà una delle aree interessate dall'arredo urbano anche nel periodo natalizio. Metteremo degli alberi natale per dare anche in quella zona una maggiore atmosfera natalizia. Ricordo che l'intervento di riqualificazione di barriera l'abbiamo portato avanti noi come amministrazione di piazza. Sicuramente una cosa che non intendiamo fare è quella di lasciare quella zona un po' a se stessa. Ad esempio abbiamo trattato adesso in consiglio comunale la questione del mercato coperto, dove con l'assessore Giorgi che devo dire si è prodigato moltissimo per cercare di intervenire per ora tamponando, ma con quella che è la volontà di valorizzare nuovamente questo storico contenitore, ecco questo sono tutte delle preoccupazioni e delle programmazioni che l'amministrazione ha proprio per dare vitalità anche all'area poi di barriera. Sul tema di barriera la volontà è quella di ricreare una zona che in qualche modo sia la naturale prosecuzione del centro storico, perché comunque anche barriera secondo me è centro storico con gli assi pedonali che si sono creati, e quindi sotto Natale saranno fatti degli addobbi come nell'area di piazza Cavana, nell'area di piazza Oberdam, quindi avremo comunque una continuità e chiaramente attivare sempre, e lo dico sempre questo, un maggior dialogo con i cittadini, con gli operatori economici, con i commercianti, per trovare insieme magari delle piccole soluzioni che durante l'anno delle iniziative possano mettere sempre più attenzione anche a questa zona. Grazie a tutti.